Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale. Dopo il ricovero in ospedale il presidente della regione Francesco Roberti è tornato nel suo ufficio di via Genova, già proiettato al prossimo anno con rinnovato impegno ed ottimismo, con tanti progetti ancora da realizzare rivolgendo gli auguri per il prossimo anno ai molisani. Anna Maria Di Matteo lo ha intervistato. Presidente Roberti è tornato finalmente al suo posto. Era normale ma soprattutto è andato tutto bene. Ringrazio tutti i molisani e gli attestati di stima, di amicizia che mi hanno fatto pervenire. Per me sono stati momenti importanti ma soprattutto è stato un segnale di affetto ed è in qualche maniera il carburante per andare avanti. L'anno 2023 sta per chiudersi, è un anno importante. È stato l'anno in cui lei si è insediato con tutto il suo esecutivo. È stato un anno difficile perché ci siamo insediati purtroppo a fine luglio. Ci sa, avevamo una situazione debitoria di circa mezzo miliardo di euro da dover in qualche maniera contrattare con il governo. Il governo ci è stato vicino, abbiamo fatto un'operazione di trasparenza e verità. Sulla base di questo abbiamo dovuto attendere che il governo facesse il provvedimento necessario da poter iscrivere all'interno del nostro bilancio per poter chiudere il bilancio 2023. È così come stiamo procedendo nel pagare poi le varie imprese e quindi dare la possibilità all'economia di girare ma soprattutto alle persone che vantavano crediti nei confronti della regione di essere giustamente pagati e quindi in qualche maniera andiamo avanti. Che anno sarà il 2024? Il 2024 finalmente ci auguriamo che sia un anno di ripresa per questa regione sia per i finanziamenti europei che abbiamo a disposizione da far sì che possono essere fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di questa regione e quindi dobbiamo saperli utilizzare, saperli programmare e far sì che questi siano ben controllati perché l'esecuzione avvenga con un cronoprogramma puntuale e preciso. Ma soprattutto avremo la possibilità di fare un bilancio che è quello del bilancio 24 dove andremo a programmare quelle che saranno le esigenze anche delle fasci deboli soprattutto delle fasci deboli e gli incentivi necessari alle nostre aziende piccole e medie aziende che hanno necessità di avere quei finanziamenti che sono poi propulsivi al loro sviluppo e alla loro ripresa economica quindi all'efficientamento dei loro impianti e alla possibilità di creare occupazione. Tra poche ore saluteremo il 2023, che cosa si augura per lei innanzitutto? Io il 2023 con gli alti e bassi è stato un bel 2023, al di là di tutto ringrazio chi mi è stato vicino ma soprattutto non rimbianco niente, anzi sono uno di quelli che non mi pianca addosso, sono pronto per ripartire con il 2024, migliore del 2023 e sono certo che questo avverrà. Quindi auguro a tutti i molisani che ci sarà un bellissimo 2024, da trascorrere in maniera serena in famiglia, da augurarci tanta salute ma soprattutto di avere tanta speranza che si può fare cose buone se stiamo tutti insieme, se abbiamo tutti la volontà di fare il proprio dovere perché così saranno garantiti a tutti i propri diritti. Buon anno a Tere Molise, ai nostri spettatori, buon anno a tutti quanti. E conferenza stampa di fine anno del Presidente dell'Aggiunta regionale Francesco Roberti e del suo esecutivo per tracciare il bilancio di quanto realizzato finora ma soprattutto per annunciare importanti novità per il futuro. In primo piano il nuovo contratto di servizio siglato con Trenitalia e l'elettrificazione che entro il 2025 interesserà tutta la tratta ferroviaria molisana, il tutto nell'ottica di risparmiare e migliorare il servizio offerto agli utenti. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. La situazione finanziaria che l'Aggiunta regionale si è trovata di fronte all'atto del suo insediamento era a dir poco disastrosa. Mezzo miliardo di debiti non solo legati alla sanità ma anche per una cattiva gestione delle risorse. Vaggio Duro, il Presidente della Regione Francesco Roberti in apertura della conferenza stampa di fine anno attorniato dagli assessori di Lucente, Marone, Iorio, Cefrat e il sottosegretario Niro. Un Presidente in piena forma che è stato sempre operativo anche subito dopo il ricovero in ospedale. Il Governo regionale intende portare avanti una operazione verità e trasparenza. Basta nascondere lo sporco sotto il tappeto, ha detto Roberti. È arrivato il momento di svelare tutte le nefandezze di una gestione allegra della Regione. Il punto centrale della conferenza stampa tuttavia è stato il trasporto ferroviario con la firma del nuovo contratto di servizio con Trenitalia nei confronti della quale la Regione ha maturato un debito di oltre 50 milioni di euro. Somma nella quale era inserita anche la tratta della metropolitana leggera mai entrata in funzione. Le novità in arrivo già dal prossimo anno sono tante, tutte volte a migliorare il servizio. Intanto c'è un consistente risparmio sul nuovo contratto di servizio e poi l'annuncio da parte dell'elettrificazione che sarà completata fino alla stazione di Sernia entro la fine di gennaio. Entro giugno 2025 anche dalla stazione di Campobasso partiranno treni elettrici. La Regione ne ha acquistati 10, i primi 4 entreranno in funzione entro il 2025 e il resto entro l'anno successivo. L'assessore Cefaratti ha sottolineato l'impegno della Giunta a mettere i conti in ordine non solo risparmiando con il nuovo contratto di servizio con Trenitalia ma chiudendo anche le vecchie partite per circa 31 milioni, insomma già previsti in bilancio, come è prevista la copertura finanziaria anche per altri debiti che dunque saranno saldati. Per l'assessore Iorio tutti i fondi europei a disposizione del Molise sono stati spesi, ora si apre una nuova programmazione con nuovi importanti progetti mentre l'assessore Marone e il sottosegretario Niro hanno espresso soddisfazione per il lavoro messo in campo e i risultati fin qui raggiunti una situazione hanno detto che lascia ben sperare per l'anno che sta per aprirsi. Tre bypass più cinque stand credo che io ho già dato, auguro a tutti quanti voi in bocca al lupo. La Giunta regionale questa mattina ha prorogato tutti i capi dipartimento, la novità è rappresentata da Alberta Delisio che dirigerà il primo dipartimento, il secondo Sandra Scarlatelli, terzo e quarto a Claudio Iocca che resta anche segretario del Consiglio regionale, alla direzione generale della salute resta Lolita Gallo. Tra i servizi la Delisio dirigerà l'ufficio programmazione strategica, attuazione del programma di governo, ufficio gestione contabile, rendicontazione finanziaria, ufficio agevolazioni alle imprese nell'ambito del patto per lo sviluppo del Molise. A Venafro il dimensionamento scolastico fa discutere il presidente della provincia, Saia, è intervenuto dicendo di essere stato colpito dalla scelta e ha rilanciato il tavolo di concertazione per evitare ulteriori tagli. Sentiamo Barbara Fino. Anche su Venafro si abbatte la mannaia del dimensionamento scolastico, ma l'ultima parola spetta al Consiglio regionale che si riunirà il prossimo 4 gennaio. Il paventato taglio dell'istituto Don Giulio Testa, che sarà spacchettato tra il Pilla e il Giordano, non ha lasciato indifferente il presidente della provincia, Daniele Saia, il quale assicura che l'ente di Via Berta ha cercato di difendere gli istituti scolastici del territorio. Ci mettiamo al lavoro, come già abbiamo detto, per creare questo tavolo di concertazione, per cercare chiaramente di scongiurare il taglio delle future dirigenze, ma nel caso in cui questo dovesse essere confermato come dal Ministero, è chiaro che dovremmo trovare una soluzione e speriamo di trovare l'accordo tra i sindaci e tutte le parti coinvolte in questa, diciamo, riforma, tra virgolette. A Esernia il dimensionamento ha già provocato in passato l'accorpamento di alcune scuole e non può essere concepita un'ulteriore riduzione delle dirigenze. Proprio per questo Saia rilancia la proposta di una maggiore concertazione che coinvolga tutti gli attori in campo. Stiamo assistendo a tagli un po' da tutti i punti di vista, sulla sanità, sulla scuola, anche su altre istituzioni. L'unico modo per non avere più questo tipo di criticità è quello dello sviluppo. Se questa regione tornerà a svilupparsi, ci sarà gente che tornerà a vivere in questa regione, si dovrà affrontare il problema della denatalità che è l'altro elemento che poi porterà sempre più andando avanti se queste dovesse essere le tendenze. Noi perdiamo mille studenti all'anno, quindi è chiaro che poi non è che si potranno tenere in vita purtroppo tutte le dirigenze. I consiglieri di minoranza di Termoli, Partito Democratico, vota per te Termoli 2024, Termoli, Bene e Comune, Rete della Sinistra, Movimento 5 Stelle, chiedono la convocazione urgente e straordinaria del Consiglio Comunale per discutere l'ordine del giorno proprio sul dimensionamento degli istituti comprensivi comunali, esprimono profonda preoccupazione per le recenti decisioni regionali. E sempre dimensionamento scolastico, nel mille proroghe parziale retromarcia del Governo. In Molise le istituzioni da tagliare passano da 3 a 2, la CGL invita la mobilitazione per evitare i tagli. La decisione era aspetto al Consiglio regionale, ha dichiarato Pino Lafratta, in virtù della proroga prevista proprio dal mille proroghe. Si deciderà il 4 gennaio. Aggiunto il provvedimento infatti consente alle regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare. Un piccolo passo indietro, frutto anche dell'iniziativa della CGL, Federazione Lavoratori della Conoscenza, ha continuato la fratta per oltre un anno, ha contestato a livello nazionale e a livello territoriale il taglio di 800 scuole. Ha concluso. Tra fine febbraio e la prima metà di marzo ci sarà la cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di Campobasso Boiano, Biaggio Colaianni. La data precisa la comunicherà lui stesso il 10 febbraio, quando sarà ordinato vescovo a Matera. Ieri l'incontro con una delegazione della Curia Campobassana. Sentiamo. Sarà Monsignor Biaggio Colaianni, nominato arcivescovo di Campobasso Boiano lo scorso 6 dicembre da Papa Francesco, a comunicare la data del suo insediamento in Molise e lo farà nel pomeriggio del 10 febbraio a Matera, al Palasassi, nel giorno della sua ordinazione episcopale, alla presenza anche di istituzioni e fedeli della nostra regione. E' quanto emerso dall'incontro avuto ieri tra una delegazione della Curia Campobassana, una decina di persone in tutto, per la maggior parte sacerdoti, guidata dal vicario Don Antonio Arienzale, con lo stesso Colaianni nella sua parrocchia, quella di San Giacomo a Matera. Un colloquio sereno per cominciare a organizzare l'ingresso del nuovo presule nel capologo molisano e per iniziare anche a conoscersi, a gettare le basi per un cammino insieme nella diocesi. Una data precisa ancora non c'è, si apprende, ma orientativamente la cerimonia di insediamento potrebbe esserci tra fine febbraio e metà marzo. Oltre il 15 è stato riferito, sarebbe più complicato, essendoci poi i riti della Pasqua. Se i lavori in cattedrale non saranno ancora ultimati, a ospitare l'arrivo di Colaianni sarà la Basilica Minore della Dolorata a Castelpetroso. L'arcivescovo emerito, Giancarlo Bregantini, che è in contatto con il suo successore, è pronto ad accoglierlo e subito si è informato ieri sera, rientro dalla Calabria, dell'esito dell'incontro a Matera. Colaianni ha affidato ai sacerdoti incontrati il suo saluto ai fedeli molisani con l'augurio di un buon anno nella consapevolezza che a breve sarà nella sua nuova diocesi. L'azienda sanitaria regionale ha attivato un'inchiesta interna sulla vicenda sollevata da PrimoNumero.it che riguarda il direttore sanitario del Santimotio di Termoli, Raimondo Petrocelli. Il medico a novembre scorso aveva raggiunto Campobasso per un corso di aggiornamento con l'auto aziendale dell'Asrem, una Fiat Panda. Sceso dall'auto sarebbe scivolato riportando una frattura, sarebbe così stato trasferito con l'ambulanza dal Cardarelli all'ospedale civile di Pescara per un intervento chirurgico. Nelle scorse ore all'ospedale del capologo molisano sarebbe arrivata la Guardia di Finanza per le verifiche relative ai trasferimenti in ambulanza verso ospedali di fuori regione a spese dell'azienda sanitaria del Molise. Sulla vicenda a Petrocelli è intervenuto anche il consigliere regionale Angelo Primiani che ha presentato un'interrogazione ai presidenti di Giunta e Consiglio, Francesco Roberti e Quintino Pallante per avere delucidazioni sulla vicenda. A Termoli centinaia di fiaccole hanno illuminato il corteo partito da Pozzo Dolce, luogo della tragedia di un mese fa e arrivato a Piazza Monumento. L'iniziativa per riflettere, per indignarsi, per manifestare la vicinanza ai cosiddetti invisibili dopo la terribile morte del clochar asfissiato e carbonizzato. Intanto prosegue l'indagine coordinata dalla Procura di Larino. Sentiamo Andrea Nasillo. Un mese fa la tragedia di Pozzo Dolce a Termoli. Fumo e fuoco, la trappola mortale per il giovane senza tetto che viveva da solo. La sua dimora era la strada. Mai più tragedie. Il grido silenzioso è partito dal luogo del dramma e ha percorso le vie del centro di Termoli fino a Piazza Monumento. Diverse centinaia di persone hanno dato vita alla fiaccolata solidale promossa dalle associazioni Città Invisibile e Faced sposata dalla diocesi, dagli operatori sociali, dai volontari e i rappresentanti di ogni schieramento della politica locale e regionale. Tutti insieme per dare luce agli invisibili. Dobbiamo metterci in discussione, non nella specificità perché non è che ci sono soluzioni immateriali, però nell'atteggiamento. Noi facciamo grandi movimenti emotivi di solidarietà, grazie a Dio ci sono, però la solidarietà nella quotidianità è venuta meno. Per noi questa è una giornata di riflessione dove si vorrebbe tornare indietro e pensare che nulla fosse mai accaduto. Cerchiamo per favore di tamponare questa emergenza e di dare una giusta dignità a questi ragazzi. Noi ci proviamo con una coperta e un giubbino. Il 4 gennaio ripeteremo una mostra che abbiamo dovuto posticipare dove ci sarà la raccolta per le coperte e i giubbini per loro e se ci aiutate noi possiamo portare una piccola goccia altrimenti da soli non facciamo niente. Quindi questa sera è bellissimo vedere che è venuta tanta gente a ricordare questo ragazzo che ci piange il cuore, la triste fine che abbia dovuto fare. La manifestazione per dare uno spazio di comunità è nello stesso tempo di lutto e di azione. Una comunità che si prende cura di sé solo se lo fa con l'altro in difficoltà. In Italia negli ultimi anni in media un clochard al giorno ha perso la vita. Un numero incredibile di persone nell'ombra. Una risposta significativa che mette anche come dire in risalto un pezzo di città che quotidianamente opera, che quotidianamente tesse delle relazioni, costruisce un piccolo sistema faticosamente a tutela delle persone più emarginate. Abbiamo ritenuto necessario, come molti in città, cercare un momento per ragionare, riflettere insieme ma anche ascoltare le voci di una città che spesso viene considerata invisibile, viene chiamata invisibile ma che invisibile non è, è una città che vive nella città che però cammina ogni giorno accanto a noi, incrocia i nostri passi, le nostre vite e merita la dignità, merita la visibilità, merita il rispetto di cui ogni vita umana è degna. Intanto sulla tragedia di Pozzo Dolce va avanti l'indagine della procura di Larino. Una cosa pare chiara per gli inquirenti, quel fuoco non è partito dalle mani del crociard che in quella baracca ha trovato la morte. Nella tarda mattinata di oggi un'auto è finita fuori strade, si è capovolta lungo il tratto tra Larino e Ururi all'altezza della centrale elettrica. A bordo c'era una coppia di giovani miracolati, sono stati aiutati a uscire dalla parte posteriore dell'abitacolo della Fiat 16 da alcuni passanti, uno di questi ultimi ha accompagnato il conducente e la ragazza in ospedale. Per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze sul posto ai carabinieri di San Martino in Pensilis per tutti i rilievi del caso, vedete le immagini della macchina capovolta. Un'altra auto si è ribaltata invece alle porte di Isernia, l'incidente si è verificato poco prima del quartiere San Lazzaro, intorno alle 17, coinvolta un'auto che percorreva la strada provinciale, il veicolo si è ribaltato su un fianco all'altezza dello svincolo per Colle Marino, i motivi e la dinamica dell'incidente sono ancora da determinare, fortunatamente illeso il conducente del veicolo sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme a una squadra di vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Municipale. Consiglio Comunale a Venafro per l'inquinamento della Piana, passata la mozione dell'opposizione e raccolto anche l'emendamento del sindaco Ricci, si chiede una maggiore sinergia anche con i comuni vicini, sentiamo ancora Barbara Fino. Un fronte comune contro l'inquinamento nella Piana di Venafro che coinvolga anche gli altri comuni confinanti e questo è in sintesi quanto emerso durante il Consiglio Comunale di Venafro in cui si è discussa la mozione presentata dall'opposizione per far fronte ai continui sforamenti di polveri sottili registrati in questi giorni sul territorio. Durante la seduta dell'aula consigliare è stato approvato il bilancio ma le attenzioni erano tutte rivolte alla mozione presentata dalla consigliera Anna Ferreri per chiedere un tavolo di concertazione regionale sulla questione Piana di Venafro. Stanno morendo persone giovani, sono amendati i casi di tumore, sono amendati gli aborti spontanei, chi vive il territorio tutte queste cose lo sa e si rende conto che non è un aumento normale è dovuto ad una qualità dell'aria e anche ovviamente al sottosuolo e al territorio dove ci sono ovviamente degli inquinanti, il sindaco se anche non ha un'attività diretta ma un'attività indiretta perché la regione che determina e decide sull'inquinamento è un'attività propulsiva, ha un'attività consultiva, di richiesta alla regione, atti formali che devono essere indirizzate al presidente della regione, all'Asla, al direttore generale qui non si può dormire più, bisogna fare atti formali, anche intimazioni. Alla proposta della Ferreri è stata aggiunta anche la mozione della maggioranza firma del sindaco Alfredo Ricci il quale ha chiesto che oltre all'intervento dell'ente regionale ci siano anche degli incontri con i comuni di Pozzilli, Montaquila e Sesto Campano affinché possano anche loro intervenire direttamente sulla questione dell'inquinamento. Sono state inoltre avanzate delle proposte per l'installazione di centraline mobili nei vari punti interessati dalla presenza di aziende che potrebbero essere potenzialmente inquinanti. Tutte proposte inserite in un documento di sintesi votato all'unanimità dal Consiglio Comunale che saranno nuovamente discusse a gennaio durante il Consiglio monotematico a cui parteciperanno anche la regione, l'ARPA e le associazioni del territorio. E ora parliamo dei saldi invernali che quest'anno partiranno anche in Molise il 5 gennaio per i consumatori l'occasione di acquistare a prezzi ribassati per i commercianti un'opportunità per incrementare le vendite dopo mesi particolarmente difficili dalle associazioni di categoria all'invito all'acquisto consapevole facendo attenzione alle truffe che sono sempre dietro l'angolo. Sentiamo ancora una volta Anna Maria Di Matteo. Giusto il tempo di finire di scartare i regali di Natale che già parte la corsa ai saldi invernali che quest'anno inizieranno il 5 gennaio anche in Molise. Fanno eccezione Basilicata e Sicilia che daranno il via ai saldi il 2 gennaio e la Valle d'Aosta dove invece partiranno il giorno successivo, quindi il 3. Lo annuncia sui suoi canali social la ConfCommercio. Nonostante il rincaro dei prezzi dei prodotti di generi alimentari di prima necessità che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, gli italiani non rinunceranno alla caccia all'affare. Il 29% sfrutterà la tredicesima, mentre il 20% attingerà dei propri risparmi che generalmente vengono accantonati per far fronte a spese impreviste. Mettendo a confronto i dati del 2022 e del 2023, quest'anno solo il 60% rispetto al 76% dello scorso anno prevede di spendere meno di 500 euro per i saldi invernali 2024. Le categorie merceologiche più ricercate saranno principalmente abbigliamento e accessori per l'89%, seguiti da acquisti, beauty e pacchetti benessere 29% e infine viaggi e esperienze per il 16%. Dopo il Black Friday che ha anticipato gli acquisti natalizi, ora i commercianti sperano in questa ulteriore boccata di ossigeno dopo mesi particolarmente complicati. Intanto le associazioni di categoria invitano i consumatori a prestare la massima attenzione per evitare le truffe che sono sempre dietro l'angolo. Difidare delle percentuali di sconto troppo elevate potrebbe trattarsi di rimanenti di magazzino, l'acquirente potrà pagare anche con carte di credito che dunque dovranno essere sempre accettate mentre il cambio della merce acquistata è a discrezione del negoziante nel caso si tratti di un semplice ripensamento. Se riguarda invece difetti di fabbricazione c'è l'obbligo di procedere con un cambio o con un rimborso monetario qualora il cliente preferisca questa seconda soluzione. Il vizio però deve essere dimostrato entro due mesi dall'acquisto. Intervento senza mezzi termini dell'assessore comunale all'ambiente di Campobasso Simone Cretella che invita apertamente a festeggiare il Capodanno senza botti che sono pericolosi per le persone ma anche per gli animali e proprio sulla tutela di questi ultimi si è concentrato l'assessore evidenziando che sono troppi cani, gatti che muoiono ogni anno per lo spavento causato dalle esplosioni di cui l'appello a festeggiare in altri modi l'arrivo del 2024. Emanata l'ordinanza su botti e somministrazione di alcolici anche a Termoli il servizio. Il Capodanno viene salutato come consuetudine con fuochi d'artificio e botti. Sul tema è intervenuto senza mezzi termini e apertamente per la tutela dell'incolumità degli animali l'assessore comunale di Campobasso all'ambiente Simone Cretella ha evidenziato che l'abitudine di far esplodere spesso in maniera incontrollata materiale e pirotecnico collide con le più elementari norme di sicurezza con conseguenze molte volte anche letali. A farne le spese però ha voluto specificare non sono solo le persone ma anche tanti incolpevoli animali. Sono almeno 5.000 quelli che ogni anno in Italia muoiono per lo spavento oppure per contatto diretto a causa di botti e petardi di fine anno e tra questi, quest'anno ha rimarcato nel suo appello Cretella, potrebbe esserci anche il nostro cane, il nostro gatto, quello di una persona a noi cara oppure uno dei tanti animali che vivono ai margini della città senza una casa in cui cercare protezione e riparo sicuro. Il regolamento del Comune di Campobasso per la tutela degli animali vieta espressamente l'utilizzo di botti dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio. Se ne può fare decisamente a meno, magari preferendo scintille, cascate, giochi di colore senza inutili esplosioni. È il consiglio di Cretella per festeggiare con maggiore sicurezza. Anche questo è uno degli indicatori del livello di civiltà di una città. Intanto il sindaco di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, per Capodanno ha emanato l'ordinanza che vieta l'accensione, il trasporto e l'utilizzo di materiale esplodente nella zona di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti dove si svolgerà la festa di Capodanno. Il tutto per garantire la sicurezza e prevenire rischi, limitare incidenti anche nell'interesse dell'ambiente e nel rispetto degli animali. L'ordinanza inoltre consente la somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro solo nei locali autorizzati, mentre sarà vietata in altre zone, compresi i distributori automatici. Il consumo di alcol sarà attentamente monitorato dalle autorità, hanno spiegato dal comune di Termoli. Dunque niente, botti a Termoli con l'ordinanza comunale. Anche l'assessore Rita Colaci si appella ai cittadini. In una lettera aperta dice che i fuochi artificiali, i botti, possono essere anche una causa di grave inquinamento, non solo acustico ma pure atmosferico e possono essere pericolosi per la salute umana. Senza contare poi i danni che subiscono gli animali domestici e quelli randaggi. Nella suggestiva cornice del Borgo Antico di Larino prende vita la diciassettesima edizione del Presepe Vivente a cura dell'Associazione Culturale Artistica Ricreativa Larinese. Sentiamo Francesca Danversa. Non appena i due centurioni aprono il cancello, i visitatori guidati dalle luci delle candele si trovano immersi in un mondo passato tra scene di vita quotidiana e botteghe di antichi mestieri, dal cestaio allo scarpellino. Oltre 150 figuranti hanno preso parte al Presepe Vivente tra le vie del Borgo Antico di Larino a cura dell'Associazione Culturale Artistica Ricreativa della città frentana. Lungo il percorso è possibile degustare vino cotto e focacce appena sfornate nella bottega del panettiere, ammirare le ricamatrici e le massaie intente nella preparazione della pasta fresca. Sette anni che faccio nel Presepe e quest'anno l'abbiamo ricreato in questa zona di Larino che è una zona molto bella, molto antica e quindi si addice proprio al Presepe Vivente. Per i volontari, veterani e nuovi, prendere parte della rappresentazione è motivo d'orgoglio e un dono che fanno la città, ma anche un'occasione per trascorrere il periodo delle festività natalizie in compagnia. Soddisfatto del lavoro e dell'interazione che si è creata tra le associazioni, il sindaco Pino Puchetti. Sia a livello illuminare ma anche a livello di Presepe quest'anno ci sono delle novità e sicuramente saranno apprezzate dei turisti. Proseguono le manifestazioni natalizie del Comune di Campomarino inserite nel calendario degli eventi Natale da mare. Lunedì 1 gennaio in Piazza Vittorio Veneto sarà festeggiato l'inizio del 2024 con un grande spettacolo piromusicale, così è stato chiamato, che coinvolgerà la cittadinanza con coreografie di fuochi artificiali a ritmo di musica. L'esecuzione contemporanea e sincronica di brani musicali e fuochi di artificio avrà inizio alle 18.00. Hanno fatto sapere l'assessore al turismo del Comune di Campomarino, Michele Degidio, e l'istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali. Dopo i successi già registrati al Teatro Savoia e ad Agnone, l'orchestra sinfonica del Molise a grande richiesta è tornata in scena anche nella chiesa di Sant'Antonio di Padova con Callas Galà. L'ultima esibizione del 2023 è stata anche l'occasione per fare un bilancio del secondo anno di attività dell'orchestra attiva a tutto tondo nel panorama musicale. Sentiamo Gabriella Laurelli. Grazie a tutti. Il centenario della nascita di questo grande soprano Maria Callas abbiamo iniziato questa stagione con un concerto dedicato al bel canto fino alla trilogia verdiana ed oggi concludiamo questa stagione con un repertorio lirico drammatico che rappresenta il periodo overista. Chiara Bonzanni, soprano, nel recente settembre 2023 in una produzione in Giappone è stata protagonista nel ruolo di Sant'Uzza nell'opera Cavaleria Rusticana. È stata una bellissima esperienza anche perché era una prima mondiale assoluta quindi venivano ripresi comunque dei manoscritti mascagni. Stasera chiudiamo la stagione concertistica. È stato un anno molto proficuo e molto ampio di generi musicali e soprattutto di attività della nostra orchestra a tutto tondo, a 360 gradi. A piccoli passi ma in modo deciso ci avviamo verso il raggiungimento degli obiettivi che avevamo programmato cioè quelli di raggiungere la stabilità nel corso di due trienni completi di attività e prima lo abbiamo quasi concluso. Le prospettive sono ottime. Mi sto trovando molto bene e spero che questa orchestra diventi stabile e quindi continui, questo progetto vada avanti. Il Molise è ricco di opportunità per crescere ma soprattutto con questa orchestra per lavorare professionalmente. Tanto studio, tanto impegno, tanti sacrifici sicuramente però la voglia di continuare, ecco di non fermare. Questo è solo un arrivederci alla prossima stagione che speriamo comincerà davvero presto. E' tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro video.